bene amici buongiorno a tutti bentrovati sul canale quest'oggi voglio parlare del degli auricolari true wireless in ear della cellular line ovvero queste ecco qua confezione semplice magneti permette di vedere prima di acquistarle il contenuto a mio avviso tutto sommato fanno un'ottima un'ottima impressione ma andiamo aprirla insieme all'interno troviamo manuale di istruzioni cavo al solito per la ricarica usb micro usb il cofanetto per riporle per portarle sempre con voi con la particolarità come molti altri modelli è sia un pratico cofanetto per riporle con il magnete che mantiene chiuso il evita aperture accidentali l'accetto portarlo alla mano per attaccarlo al portachiavi per metterlo in borsa quello che volete ma riponendo gli auricolari qua funge anche da caricabatterie degli auricolari stessi permettendovi anche se siete in giro di qualora si scaricassero di ricaricarli per bene tre cicli di carica il che non è affatto male perché garantiscono un'ampia autonomia di ascolto barra conversazione molto bene gli auricolari non potete sbagliare l left r right per destra sinistra in più ovviamente non tutti avendo la stessa dimensione dei padiglioni auricolari ci sono dei gommini di ricambio per trovare il il gommino che faccia adattare al meglio gli auricolari per per le vostre orecchie le indosso e vediamo un po le prime impressioni beh devo dire niente affatto male me le sento proprio calzare a pennello ora andrò ad associarle e faccio qualche prova almeno vi riesco a dire nel dettaglio le prime impressioni di utilizzo quali quali sono a dopo li ho associati al mio cellulare e ho fatto qualche primo esperimento qualche prima prova e devo dire che mi hanno piacevolmente stupito ora voglio testarli un pochettino meglio per per darvi qualche impressione in più non appena lo estrarrete dal suo case lui si connetterà in automatico che sia solo uno che siano tutti e due si collegherà in automatico al vostro cellulare permettendovi così di ascoltare musica di rispondere alla telefonata indipendentemente se li stiate usando tutti e due insieme ossia che ne stiate utilizzando uno solo ora ci spostiamo all'aperto e vediamo un po come si comportano con i rumori di sottofondo bene siamo qua fuori in questa bella giornata di sole e nonostante ci sia una bella gru che sta facendo un po di baccano anzi stiamo facendo la prova nella prova perché non so se accorti ma ho indosso il mio microfono che poi vi linkerò in descrizione il video a cui fai riferimento per vedere se anche con rumori di sottofondo della gru e all'aperto la mia voce si sente pulita comunque appena riesco voglio fare un ulteriore test ovvero tre test in uno cioè farmi un bel giro con la mia e bike con il microfono collegato al cellulare affinché possiate sentire anche il suo funzionamento all'esterno e col fruscio del vento mentre sto mentre sto pedalando e allo stesso tempo utilizzare questi auricolari per effettivamente testarli sul campo comunque ora vado a farmi un bel giro e poi vi vi aggiorno più tardi ciao bene perdonate l'inquadratura in verticale ma come vi avevo anticipato vado a farmi un giro in bicicletta come vedete ne ho indossato uno solo perché il consiglio che vi do siete alla guida di un qualsiasi mezzo a mio avviso fareste bene indossarne uno solo in modo che almeno preservate la vostra sicurezza e la sicurezza altrui ok perfetto andiamo a tutta velocità di modo che almeno facciamo aumentare un po frusci e rumori di sottofondo affinché possiate sentire la mia voce in tempo reale e intanto metto anche un po di musica di modo che almeno testiamo in questo caso l'auricolare beh caspita onestamente è veramente piacevole farsi una passeggiata con questa giornata di sole ascoltando della buona musica finalmente un po di libertà dopo quest'anno e mezzo di reclusione comunque a parte questa parentesi liberatoria gli auricolari sono pienamente promossi perché ho provato a fare ricevere chiamate e sia in uscita che in entrata l'audio è veramente eccellente ho provato ad ascoltare musica e devo dirvi caspita che anche con un auricolare solo e anche alzando un po' il volume testati anche al massimo volume il suono non è per nulla distorto è sempre nitido e pulito così come anche la voce dell'interlocutore durante le chiamate di test che ho provato a fare giudizio finale testato sul campo 10 veramente un ottimo prodotto un ottimo compromesso tra qualità e prezzo ok ora scollego il microfono e proseguo il mio giretto spensierato ascoltandomi un po di buona musica a dopo per il rientro alla base e considerazioni finali ciao ragazzi no no solo domanda io l'ho acquistata su amazon però la trovi l'ho trovata anche al gigante il gigante? dove il gigante? io l'ho vista al gigante costa da 700 euro l'ho vista fuori a 700 euro buono questo io guarda se vai sul mio canale youtube la vedi anche la recensione completa se la cerchi su youtube prima la farò vedere youtube poi... eh se tu vai su youtube e fai la ricerca vedi la recensione completa che ho fatto io sul canale questa qua è piccola la puoi piegare quanti chilometri? 25 chilometri 25-26 chilometri tanto tanto? sì 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 l'ho provata io l'ho provata io ho fatto 26 chilometri 26 chilometri senza problemi grazie prego un saluto al canale ciao bello buona giornata bene sono stato fermato in diretta mentre facevo il test mi hanno chiesto consigli sulla mia bicicletta qualche piccola soddisfazione ogni tanto dai a dopo ciao ragazzi bene ed eccoci qui rientrati alla base per trarre un po le conclusioni di questa recensione nella recensione esperienza nell'esperienza stanco? no per niente perché per quanto riguarda la mia the one easy bike è una certezza e qua non ci piove per quanto riguarda il microfono tutto sommato giudizio positivo voto da 1 a 10 li potrei dare un 6 6 e mezzo perché comunque sia per 10 euro fa il suo lavoro sicuramente ogni tanto c'è qualche fruscio qualche interferenza però ripeto per 10 euro per l'utilizzo che ne devo fare io non non posso lamentarmi più di tanto mentre per quanto riguarda gli auricolari promossi a pieni voti perché ragazzi cellular line è una garanzia in quanto mi sono trovato veramente veramente bene sia per ascoltare la musica e sia anche per effettuare e ricevere chiamate come al solito se vi è piaciuto questo video esperienziale mettete un bel like condividete iscrivetevi al canale e un saluto dal vostro max review a presto ciao